Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 del Calcio Storico, oggi però in veste di dirigente sportivo della Firenze Basketball Academy che ha ottenuto un grande risultato. Sì, è uno straordinario risultato perché vincere un campionato di eccellenza nella pallacanestro è una cosa difficile che a Firenze non capitava da oltre 30 anni. Quindi questi ragazzi dell'under 16 eccellenza della Firenze Basketball Academy hanno fatto un'impresa ieri a Livorno battendo in semifinale Cecina e in finale Livorno, in casa loro. E portando a Firenze è un titolo che mancava da moltissimo. La strada è tracciata verso il ritorno a grandi palcoscenici, un po' presto per dirlo? Ma noi ci speriamo, nel giovanile stiamo lavorando benissimo. Questi ragazzi per esempio dell'under 16 lo scorso anno avevano 10 punti di vantaggio, sulla seconda li ha fermati la pandemia. È una squadra che potrebbe vincere gli scudetti giovanili. Quindi stiamo lavorando molto bene nel settore giovanile, c'è unità di intenti anche tra le società di Firenze. E' un bel periodo, nonostante questo brutto periodo che abbiamo passato. Ieri speriamo che sia la prima di alcune grandi vittorie che possiamo fare in futuro. E' stata una giornata particolare ieri poi anche, perché altri ragazzi fiorentini della scuola della Sancat hanno fatto le finali per andare in Serie A. Cosimo Costi ha vinto a Chiusi contro l'Umana Chiusi, che è una emanazione dell'area Air Venezia. Cosimo Costi con la sua Grigento hanno vinto il primo turno e quindi possono andare in Serie A. Cosimo è un ragazzo di Firenze del 2000, molto forte. C'è un bel futuro per i ragazzi di Firenze e speriamo di poterli riportare a Firenze in un giorno per giocare la Serie A e riempire ancora il Mandela Forum. A proposito di altri sport, avete riportato la grande atletica, c'è il volley, peccato che la Rainantes sia retrocessa. E' un grande peccato, sia la Rainantes che il rugby. La Rainantes però, secondo me, ha tutto per poter ripartire e sono sicuro che lo farà, come anche gli appassionati del rugby di Firenze potranno secondo me vedere nei prossimi anni una grande squadra. State vicino anche a queste realtà come istituzioni? Io direi che bisogna stare più vicino a queste realtà che ad altre, perché lì ci giocano i fiorentini, sono realtà storiche della città, hanno bisogno di aiuto e è un dovere starci vicino. Quando non lo facciamo sbagliamo.